Buongiorno a tutti, sono Ezio Maria Romano, fondatore e presidente della Federazione Italiana Cani da Guardia e vi do il benvenuto a questo corso base sul Cani da Guardia online che la nostra federazione ha deciso di organizzare per tutti coloro che ci seguono ormai da anni sul nostro portale www.canidaguardia.com e che sono interessate ad approfondire la loro cultura su questa tipologia di cani. La nostra federazione ha ormai sei anni, è nata nel 2010 e si occupa con costanza di poter diffondere una buona cultura cinofila su questa tipologia di cani. Questo corso base online ha anche l'obiettivo di promuovere il vero corso base sul Cani da Guardia che noi organizziamo due volte in primavera, due volte in antunno ogni anno presso la sede della federazione o che potremo anche organizzare in altre sedi qualora ce ne fosse richiesta. Per aderire a questo corso base sul Cani da Guardia online è sufficiente andare su YouTube, scrivere nella ricerca corso base sul Cani da Guardia video 1 oppure video 2, video 3 eccetera, fin quando potrete visionare tutti questi filmati che io ho registrato per potervi chiarire meglio i rapporti che intercorrono fra il Cani da Guardia Reero, cioè quello in grado di proteggere realmente la famiglia e il proprio padrone. Vi ringrazio dell'attenzione, vi auguro buona visione dei miei filmati e buona giornata a tutti.